Le critiche del Sindaco Italia, tante promesse e pochi fatti, tradita la fiducia della città. La credibilità del Sindaco Francesco Italia appare fragile agli occhi dei cittadini siracusani poiché alle dichiarazioni del primo cittadino non sono seguiti i fatti. Il grado di fiducia nell'amministrazione viene dunque bocciato da Michele Mangiafico, leader del Movimento Civico 4 e membro di Fratelli d'Italia Siracusa. A sostegno di questa critica Mangiafico cita 5 esempi. Primo, la realizzazione del parcheggio per quello che il Sindaco ha definito il centro commerciale naturale di Via Tisia. Ricordate il 9 agosto, dice Mangiafico, quando il Sindaco annunciò con grande enfasi la fine dei lavori del parcheggio in Via D'Amone, parlava di una superficie drenante e innovativa. Ebbene, oggi vediamo che quella promessa si è rivelata un fallimento. Invece di drenare l'acqua, ogni pioggia trasforma il parcheggio in un fiume di fango che invade le strade di Mitra, un pericolo per tutti noi. Poi Mangiafico si sposta su Viale Terracati. 5 agosto, a ferma, ci è stato detto che si sarebbe avviata una sperimentazione per migliorare il traffico su Viale Terracati, rimuovendo i semafori. Ma sapete qual è la realtà? Non esiste una relazione che documenti i dati di questa sperimentazione. Niente numeri, niente orari, niente analisi del flusso di auto. Come possiamo affidarci a scelta definitiva senza alcuna base scientifica. E c'è il crollo anni fa ormai di Via Lido Sacramento. Il primo agosto continua sempre il Sindaco che aveva annunciato la riqualificazione di Via Lido Sacramento dopo tre anni di attesa dal crollo del 2021. Bene, vi invito a fare un giro lì oggi. La strada ha ceduto di nuovo una gestione approssimativa che non ha saputo risolvere il problema alla radice. Ma non finisce qua. C'è anche Via Malta. Il 27 gennaio in Via Malta, ricordo Mangiafico, l'amministrazione ci parlava di controlli rigorosi sulle corsie preferenziali tramite telecamera. Eppure, fino ad oggi, non è stata emessa neanche una multa. C'è da chiedersi se quelle telecamere siano mai state attivate. Ancora soldi pubblici sprecati. E infine, l'università in città. Come non ricordare, ancora Mangiafico, l'annuncio del 28 dicembre 2022 sull'arrivo di sei nuovi corsi di laurea in città, tra cui giurisprudenza e scienze politiche. Oggi non solo non è stato attivato neanche un corso, ma gli immobili che dovevano accoglierli sono ancora vuoti. L'ennesima promessa non mantenuta. La fiducia si conquista con i fatti e questi sono i fatti, conclude il leader del Movimento.